La danza è una nicchia di bellezza e di virtuosismo, ma può raccontare anche la complessità del mondo, può mettersi anche a disposizione dell'incontro con ciò che è imperfetto secondo categorie e stereotipi tradizionali. Il nostro progetto punta esattamente a questo, mettiamoci a disposizione di un'esplorazione, di una ricerca tra corpi diversi, tra diversi modi di esprimersi oppure di incontrarsi. Noi pensiamo che la fragilità, la diversità, siano in grado di sposarsi al talento, di completarlo. In questo modo vogliamo raggiungere davvero una pienezza totale di espressione. In qualche modo quando ci si occupa delle persone più fragili si diventa multidisciplinari. Si comincia a pensare a scuole, a cultura, lavoro, anima e di conseguenza arte. E quello che stiamo provando a fare è proprio cercare di tirare un filo rosso fra tutte le anime della città per andare a indagare, a lavorare su quelle che sono le persone, le persone più fragili.